La CGL di Pescara esprime preoccupazione per la perdurante chiusura dell'impianto delle piscine e le naia di, ma soprattutto chiede che ci siano risposte concrete per gli ex lavoratori che sono in attesa di risposte. Sono ormai trascorsi quasi due mesi dall'inaugurazione fatta l'11 luglio, dopodiché la struttura è rimasta ancora chiusa e lo è tuttora, per una serie di problemi legati soprattutto alla certificazione che era necessaria affinché quella struttura fosse agibile completamente. Ormai sono trascorsi due mesi e noi riteniamo che bisogna accelerare in maniera anche determinata per trovare due soluzioni sostanzialmente. Una, quella di riconsegnare la struttura alla cittadinanza e quindi affinché si riapra la struttura e i pescaresi possano fruire di quella opportunità che peraltro è unica nel territorio e non solo nel nostro territorio. Due, per dare una risposta a quei lavoratori che erano impegnati circa una trentina su cui al momento ci sono stati solo una serie di impegni verbali dichiarati nel corso del tavolo delle trattative ma che ad oggi sono tutti disoccupati perché sono stati licenziati dall'azienda precedente e non hanno ancora una risposta e quindi sono in attesa di avere una ricollocazione. Per questo stiamo chiedendo una convocazione urgente di un tavolo perché riteniamo che bisogna passare dalla dichiarazione fatta finora a dei fatti concreti per dare risposte. Secondo voi quando verranno riaperte le piscine e le naia di? Dovrebbe essere la regione che ci dice quando riaprono quelle strutture. Ci aveva detto che sarebbero riaperte l'11 di luglio ma siamo al 3 di settembre e sono ancora chiuse per cui vorremmo capire noi quando riaprono le naia di e quindi quale sarà la soluzione per i lavoratori impegnati fino a qualche mese fa. Grazie a tutti.